e non fai quello che sei tu scornacchiato, tu ti ricordi, devi mettere otto scorte se mi succede qualcosa a me, otto scorte e manca te vuoi firmare. Pino Grazio, ti faccio accedere se stai dentro il paese tu, io guardo le parole, Pietro Mela, Pietro Mela, è una parola, io guardo le parole, pensi sempre che non mi hanno sparato, appena che macerano, si prendono prima un po' e poi un po' la bottiglia, guardo le parole, buonasera, registra perché non c'è la niente, Giuseppe Sommagrezio, tu ti chiedi una volta vicino a un magistrato fa, se mi succede qualcosa a me, io non ti denuncio più, a chiamare da una, per te sparare mucca, appena perché a te te non ci non ti fanno niente, a te da una biglietta e non ti sparare, perché tu?